Spacciavano droga con un neonato in braccio, protagonista dell'insolita storia due donne di Andrea, rispettivamente di 35-39 anni, vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. Entrambe sono state sorprese dai carabinieri della compagnia locale, mentre cedevano una dose di eroina ed una di cocaina ad un uomo di 36 anni. Al momento dell'arrivo dei militari, le due erano a bordo della loro auto, parcheggiate in via Piave. La successiva perquisizione ha permesso di scoprire un'ulteriore dose di cocaina nascosta nell'abitacolo, mentre nelle abitazioni delle due donne sono state rinvenuti complessivamente più di 1.300 euro in banconote di piccolo taglio e un'erubica contenente nomi e somme di denaro, una sorta di registro contabilità della loro attività di spaccio. Dopo gli accertamenti di rito, le donne sono state sottoposte agli arresti domiciliari, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani. Dovranno rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo stesso reato, è finito in manette a Bari un senegalese di 44 anni, residente nel quartiere Libertà. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva una dose di marijuana ad un acquirente. Questi, vistosi scoperto, ha lasciato cadere la droga per terra ed è riuscito a sfuggire ai militari. E' andata peggio invece all'immigrato, immediatamente bloccato e perquisito. Addosso gli sono stati trovati quasi 300 euro in contanti e una cartuccia calibro 9. Ratto in arresto, anche lui è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Oltre che di spaccio, dovrà rispondere di detenzione abusiva di munizioni da guerra.